Siamo un tour operator di vacanza attiva, una start-up in cui la regione e la comunità europea hanno creduto finanziandoci per tutto quello che vedete. Noi organizziamo vacanze attive in bicicletta e in trekking, intercettando un flusso di clienti dall'estero e anche italiani, portandoli qui in Abruzzo facendo scoprire il territorio abruzzese, offrendo servizi che sono dal noleggio delle bici, al trasporto delle biciclette, trasporto bagaglie e quant'altro. Gruppi stranieri che vengono a visitare la nostra regione, pensate oggi dei turisti francesi che partono in gruppo, andranno a mangiare su un trabocco, a visitare San Giovanni in Venere, vedranno Francavilla in tutta la sua estensione e saranno qui con noi una settimana. Questo si ripete fino a moltiplicarsi in diversi numeri che diventano numeri importanti, circa 5.000 presenze solo per la Bike Life. Avete dotato anche qui per esempio la stazione di Francavilla di una postazione per ricaricare le bici elettriche? Sarà possibile ricaricare le bici elettriche del tutto gratuitamente, sarà anche possibile gonfiare la propria bicicletta, farla controllare del tutto gratuitamente e questo è l'anticipo di quello che è già previsto per il futuro, perché la regione intende finanziare una velo stazione, quindi un punto messo qui nella stazione di Francavilla, nel quale si potrà arrivare col treno, scendere in bicicletta o il contrario, arrivare in bicicletta e salire sul treno e quindi una mobilità completamente diversa da quella che noi conosciamo.